La prima iniziativa che Ascom propone, che è anche il light motive della campagna associativa 2015, si chiama un mondo di clienti, che non è nient'altro che una rete che si vuole creare tra i 2.500 associati Ascom e i loro dipendenti, per un totale di 8.000 soggetti, i quali potranno acquistare prodotti e servizi dagli aderenti alla rete, quindi dai soci Ascom, utilizzando una tesserina che gli darà diritto accesso a sconti e promozioni. Tutto ciò verrà animato da una piattaforma che sarà collegata al dominio del sito Ascom, quindi sotto il sito ascombc.it, dove saranno rilanciate queste offerte periodiche a scadenza oppure permanenti per una durata dell'intero anno.